Oggi vi presento un caso abbastanza semplice di rinoplastica che, come spesso accade nella mia pratica, è eseguito in tecnica chiusa, quindi rinoplastica indonasale, senza tamponi, in day surgery, per correggere il GIBO. Una richiesta particolare di questa paziente era quella di avere un profilo rettilineo e quello che spesso dicono i pazienti che vengono da me in studio per la visita, ho visto alcuni dei suoi lavori sui vari media e mi sono piaciuti perché sono con un profilo rettilineo, quindi niente naso scavato, niente punta all'insù. Quello del naso scavato curvilineo, a sella che si voglia dire, e la punta all'insù con le narici frontalmente esposte, è un trend che si sta consolidando, quindi molti pazienti preferiscono un risultato molto più sobrio, più naturale, che non si veda ed è abbastanza semplice realizzarlo. Tre cose necessarie, profilo rettilineo non scavato, punta non troppo stretta frontalmente, cioè vista dal davanti e le narici non esposte frontalmente, in questo caso abbiamo realizzato proprio questo intervento d'accordo con la paziente e andando incontro alle sue richieste, semplicemente correggendo il GIBO e ottenendo un naso meno sporgente, meno proiettante nel profilo come da sua richiesta. Fotografie dopo 5 mesi di questo intervento effettuato con un tempo operatorio di circa 70-80 minuti.